Incidente nel pomeriggio di venerdì 10 giugno, poco prima delle 13, in frazione Santa Maria d'Alie. Una mini cooper ha urtato una Fiat Punto parteggiata all'autostrada e dopo un impatto si è ribaltata sul tratto che costegge la carreggiata, adagiandosi su un fianco. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Brea, la coce rossa di Castellamonte, l'elicottero dei vigili del fuoco Drago 66 e i carabinieri di Castellamonte. La donna, residente ad Aglie dopo le prime cure, è stata trasportata in ospedale.